Quando si tratta di acquistare un profumo, sicuramente due fattori molto importanti sono la scia e la persistenza. Non fate altro che chiedermelo. Oggi sono qui per darvi un video, diciamo, definitivo, non separato, sempre fatto classifiche top 10 scia, top 10 persistenza. A sto giro vi porto un video completo. Top 10 profumi con scia, persistenza e anche complimenti. Bello, vero? Ciao ragazzi, bentornati su Odoriamola con Mirko. Questo è l'unico canale in Italia che parla di fragranze maschili dal punto di vista dell'opinione femminile. Io mi chiamo Mirko Lobianco dal 2017, quindi prima dell'avvento di questa moda di fare contenuti sui profumi, io già c'ero. Sono stato, diciamo, un precursore di questa onda anomala che si è scagliata sull'Italia. Che prevede questa voglia di profumo molto intensa. Io vi do le fragranze ad altissima giannabilità. Questo è il mio compito, è quello che faccio da anni e lo so fare bene. Chi mi segue lo sa. Iscriviti al canale se questa cosa ti sembra interessante e metti mi piace sulla fiducia perché poi te lo scordi. Non peraltro perché poi te lo scordi, perché tanto alla fine ti piacerà il video. In realtà non si tratta di 10 fragranze, si tratta di 14 fragranze. In realtà questo non è una vera top 10 perché non c'è un vero vincitore. Sono tutte delle fragranze vincitrici, dei veri winners. Partiamo subito con una fragranza di un brand. Qualsiasi fragranza prendi ha persistenza e scia. Questa è una delle sue grandi virtù. Stiamo parlando in questo caso di Acquaviva, di Profumum Roma. Acquaviva è un agrumato strapotente, strapersistente, stra-scia, stra-tutto. Se vi piacciono gli agrumi, questa è la fragranza da avere. Non c'è nient'altro da dire. Sicuramente è questa la sua forza. Seconda fragranza, Francesca Bianchi, Sex and the Sea. Questa è una fragranza che vuole riprodurre l'odore della pelle bagnata al mare. Ragazzi, un profumo animalico, forte, intenso, caldo. Un sentore di cuoio. Veramente una bella fragranza calda, avvolgente, stra-unisex. Sicuramente una fragranza anche anomala, quindi vi distinguerete in modo lapidario. Si può dire lapidario in modo intenso? No, vabbè, comunque non si possono dire tante cose, ma sul web piace quando qualcosa è sgrammaticato. Ve lo dico, se siete nuovi nel mondo di internet va così. Bene, erba pura di Xerjov. Erba pura è un fruttatone. Sono state fatte varie copie, ma l'originale è sempre l'originale. E diamo virtù all'onestà intellettuale e anche all'etica del lavoro. Una cosa alla quale tengo molto. Ci tenete pure voi, fatemelo sapere nei commenti. Oppure fatemi sapere i cazzi vostri. che mi interessano molto, non è per l'algoritmo, assolutamente no. Mi interessa sapere, per esempio, cosa avete fatto l'altro giorno andando da Zara. Incredibile, vi siete comprati le scarpe al cuoio di cammello biologico. Vabbè. Scia, 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 scia. E persistenza. Serve dire altro? Secondo me no. Secondo me in questi video così vanno dette le cose per quelle che sono, la verità spiccia e basta. Terroni di Orto Parisi, ragazzi. Ragazzi, ma che profumo è? È un profumo che vuole ricordare la lava vulcanica. Perché terroni? Perché alla fine cosa c'è di più terrone di un qualcosa che viene dalla terra dal sud Italia? Quindi più terrone di questo non c'è nulla. Grande provocazione di Gualtieri. Un profumo al vetiver, un vetiver portato all'ennesima potenza, tant'è che non sembra neanche più un vetiver. È una fragranza per coloro che amano le vibes smoky, quindi fumose, strafumoso, strabello. Pantheon Roma. Trastevere. Questa doveva essere tutt'altra fragranza, poi ne parleremo in modo approfondito. Doveva all'inizio essere una fragranza che doveva sapere di pane e alla fine sa di davana, sa di liquirizia, di vaniglia. È un gourmand fantastico. Se vi piacciono i gourmand, questa la dovete stare molto attenti. Per tutti coloro che amano le fragranze dolci, questo è un must have. Stupendo. Black Sea di Lorenzo Pazzai. Qualsiasi fragranza di Pazzai la prendete ha scia e persistenza. Questo è poco ma sicuro. Ma Black Sea è veramente di un altro pianeta. Prendo i complimenti. È un acquatico strapotente. Non è né il mare in burrasca, né il mare sereno. È proprio l'onda che ti arriva in faccia in modo prepotente. In questo caso non è una fragranza per persone timide. Se avete paura di sembrare un po' troppo, non è questa la fragranza. Black Sea vi arriverà come un pugno in faccia. Quindi il mare in faccia. Mega Mario Orto Parisi. Questa forse la conoscete in tantissimi. Questa è stata una delle primissime fragranze delle quali ho parlato proprio nella storia, diciamo, della mia community. E si tratta di un mare in burrasca. Un profumo fantastico, dalla scia incredibile, famosissimo appunto per questo. Sono state proprio le sue prestazioni a renderlo famoso. Un po' come Rocco Siffredi. Quindi fate finta che Rocco Siffredi sia profumo e sia marino. Bene, adesso parliamo di una fragranza economica, una fragranza veramente economica. Stiamo parlando di Oyuni di Al Aramein. Questo è un olio. Forse vi sorprendo parlando di questa cosa qui. È un olio fruttato. Quindi se vi piace esplorare anche il mondo delle fragranze in olio, questa è una fragranza che vi darà tante soddisfazioni perché riceve veramente tantissimi complimenti. È un olio particolare perché è un po' muschiato, un po' animalico, ma molto molto fruttato. Secondo me da avere non costa praticamente niente, quindi ci mettete nulla sia a regalarlo che a regalarlo a voi stessi. Poi abbiamo Replica by the Fireplace. È un profumo, ragazzi, che ricorda stare davanti a un cammino, salotto, cammino, in una baita di montagna. Qualcosa sta cuocendo in sottofondo dalla cucina. Vi preparate una bella cena. Belli riposati e al calduccio. Questo è un profumo bellissimo per l'inverno. È un profumo che vi darà tante soddisfazioni appunto per sci e persistenza classifica. E' appunto quella. Peg di Nishane, ragazzi. Questo è un profumo fantastico. Questa è diventata una delle mie signature scente, ragazzi. Io ve lo dico, è il marino del futuro. I marini che piaceranno da qui in avanti saranno fatti in questo modo qui. Abbiamo Liquirizzi, Anice. Non fatevi spaventare da queste note perché sono alla fine soltanto delle nuance che giocano in un contesto salato, marino, praticamente perfetto. Un profumo che non sembra dalla scia prepotente e invece lo è. Scia, persistenza, bellezza soprattutto. Fantastico. E che di Nishane. Poi, adesso sì, parliamo di A Diamond of Velvet di Regalien. Non ho la boccetta completa. Non è questa però la fragranza, sì. È un profumo proprio straorientale, zafferano, zafferano, legni pregiati che vi arrivano proprio d'impatto, una cosa spaventosa. I complimenti che riceve questo profumo non avete idea. Veramente di una bellezza, di una prepotenza, di una gnegnabilità. fuori dall'ordinario. A Diamond of Velvet di Regalien Istanbul. Poi abbiamo la fragranza più famosa del brand inizio. Chi si intende di profumi già lo ha capito. Ovvero Side Effect. Side Effect, ragazzi. Mamma mia. Rum, tabacco, mask. E anche un minimo fruttato. Questo, se volete andare a ballare, cercate gnegnabilità in discoteca. Soprattutto, ragazzi un po' più giovani, ve lo consiglio vivamente. Questo è un profumo da avere. Bellissimo regalo anche in Blind Buy. Sono tutte fragranze da Blind Buy. Diciamo, i piccoli accendi che vi ho dato per ognuna delle fragranze sono esplicativi di quello che è effettivamente il profumo. Quindi, praticamente, le consiglio in Blind Buy tutte. Poi abbiamo Vanitas, sempre di Profumum Roma. Come già detto, Vanitas, anzi Profumum Roma, è un brand che qualsiasi fragranza prendete fate centro a livello di scia e persistenza. E questa non fa eccezione. È un gourmand. Appunto, Vanitas. Questa vaniglia, questo... Queste note un po' affumicate. Assomiglio un po' a By the Fireplace, citata prima, con il camino, questa atmosfera da baita di montagna. Qua, se volete ulteriormente esagerare, perché è proprio stra-esagerata. Amate i gourmand? Conoscete qualcuno che ama i gourmand? Bene. Questo è un profumo da avere, del quale non si parla mai. E poi finiamo con un profumo che in Italia è praticamente sconosciuto, ma in Germania conoscono in tanti, ovvero Arabian King di Mark Bauer. Arabian King è un profumo, appunto, orientale che vi catapulterà a Dubai, in queste zone del Medio Oriente, dove si sentono queste spezie fortissime, nonostante sia una fragranza molto aggressiva, molto quasi patriarcale. Lo so che è una parola che ultimamente fa paura, ma questo profumo fa paura perché è virile, è stra-virile, e secondo me è il legnoso definitivo orientale che vi serve in una collezione. È di questo genere qua. Bene. Abbiamo finito. Perfetto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, fate iscrivere al canale pure persone che non gliene ha fatto un cazzo di profumi e che alla fine che minchia vi costa, scusate. Mettete like. Ci vediamo al prossimo video e mi raccomando con questa cosa dello spruzzare, perché poi alla fine della fiera siamo tutti qui per spruzzare. Qualsiasi profumo viene acquistato, viene acquistato per spruzzare. Ciao. Grazie. 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 Grazie.